Dopo Papa Giovanni Paolo II, anche al Cardinale Carlo Confalonieri, che forcivescovo dell'Aquila dal 1941 al 1950, sarà intitolata una delle cime del Gran Sasso. La Giunta Comunale ha deciso infatti di sostenere la richiesta di intitolazione arrivata dall'Associazione Sportiva ai Corridori del Cielo, una richiesta che si basa su un fatto storico. Il 5 agosto del 1941, infatti, il Cardinale Confalonieri salì sul Gran Sasso con un gruppo di pellegrini. Ora si chiede che al ricordo di quella scesa il picco venga ufficialmente dedicato al prelato, eminente personalità del mondo ecclesiastico italiano. Noi abbiamo molti documenti che attestano il fatto che lui abbia difeso la città anche attraverso interventi in Vaticano per sventare ulteriori bombardamenti dopo quello dell'8 dicembre. Oltre al fatto di essere stato un protettore di antifascisti, di ebrei, di prigionieri di guerra alleati, attraverso una rete di smistamento nei vari conventi e monasteri della diocesi. Io mi ricordo mio padre che mi raccontava sempre di questo Cardinale che era venuto all'Aquila perché mio padre faceva parte di un coro, diciamo, paesano. Per anni mi sono sentito parlare di questo Confalonieri, se non che un giorno sono andato alla biblioteca Confalonieri vicino all'ospedale e attraverso un libro di Don Virgilio Pastorelli ho visto scritto che Confalonieri fu accompagnato al Gran Sasso il giorno della Madonna della Neve. E così mi sono messo alla ricerca di questo documento che ho trovato presso la sede del CAI di Rome dove vengono conservati tutti i registri. Intanto Gran Sasso preso d'assalto dagli escursionisti ma occorre fare più attenzione ai troppi gli interventi di soccorso in queste settimane. Gli escursionisti si dovrebbero avvalere dei professionisti della montagna come il collegio delle guide alpine e i CAI presenti sul territorio. E poi sempre avere un abbigliamento adeguato e una certa preparazione fisica che li possa supportare in caso di necessità. Abbiamo fatto un sopralluogo per una strada importantissima di collegamento tra Assergi e Aragno. Una strada oggetto di molte campagne elettorali ma questa volta, e lo dico con la massima chiarezza, non essendoci elezioni in vista, è la volta buona che si farà. Per quanto riguarda i lavori proprio inerenti in campo imperatore so che ci sono delle incendi somme di denaro che stanno per essere sbloccate e lo dico con la massima chiarezza. Grazie.